Sanità nelle carceri, sì al gruppo di lavoro, vaccino anti-influenzale in Piemonte un milione 100.000 dosi. Case popolari, contributo una tantum ai piccoli comuni. Nuova edizione di Consiglio News, ben trovati. La Sanità nelle carceri sarà il focus di un gruppo di lavoro che sarà costituito all'interno della Quarta Commissione, approvato all'unanimità dall'Aula un ordine del giorno condiviso. Il Consiglio regionale costituirà un gruppo di lavoro all'interno della Commissione Sanità con l'obiettivo di acquisire notizie, informazioni e documenti relativi alla gestione del sistema sanitario all'interno delle carceri piemontesi. È il risultato dell'articolato dibattito che si è svolto nell'Aula Consigliare sulle relazioni del Difensore Civico e dei Garanti, concluso con l'approvazione unanime di un ordine del giorno condiviso proposto dai consiglieri Sara Zambaia, Lega e Domenico Rossi, Partito Democratico. Salutiamo con favore questo esito, ha spiegato Zambaia. La prima richiesta di un'indagine conoscitiva sarebbe stata ridondante e avrebbe scavalcato il ruolo della Commissione che sta già approfondendo il tema e del garante dei detenuti. Soddisfatto anche Rossi. Abbiamo raggiunto un buon compromesso e l'impegno a produrre una relazione finale che andrà discussa e votata dall'Aula è sicuramente un elemento importante per affrontare la situazione in maniera trasparente. Il documento prevede infatti che la Commissione concluda l'approfondimento del gruppo di lavoro entro il 31 agosto 2023 con un'apposita relazione da discutere in Consiglio e presenti entro il 30 novembre una prima analisi dei risultati dell'attività svolta. Durante il dibattito sono intervenuti i consiglieri Alberto Preioni, Lega, Alberto Avetta, Monica Canalis e Diego Sarno, Partito Democratico, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Paolo Ruzzola e Mauro Fava, Forza Italia, Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi, Silvio Magliano, Moderati, Giorgio Bertola, Europa Verde, Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre. Vaccino anti-influenzale, nessuna criticità nelle forniture. Il Piemonte ne ha un milione e centomila dosi. I dati sono stati forniti dall'assessore Luigi Icardi rispondendo a un'interrogazione di Silvio Magliano, Moderati. Il Piemonte con gara regionale si è aggiudicato circa un milione e centomila dosi di vaccino anti-influenzale incrementabili del 20% in caso di necessità. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi nella sessione del Consiglio regionale dedicata al Question Time rispondendo all'interrogazione di Silvio Magliano, Moderati. Magliano aveva chiesto se le dosi a disposizione fossero sufficienti a soddisfare le richieste dei medici di medicina generale e a consentire ai cittadini di ricevere il vaccino in un periodo assai delicato per la persistente presenza del Covid-19. Al momento, da un confronto effettuato con lo stesso periodo dello scorso anno, il numero delle somministrazioni effettuate risulta essere in leggero aumento. Se le dosi in consegna non saranno sufficienti a immunizzare il target individuato, si provvederà a effettuare nuovi ordini verso le aziende farmaceutiche, ha precisato Icardi. Cambio di denominazione del Comune di Grana in Grana-Monferrato. Il provvedimento è stato approvato all'unanimità dal Consiglio regionale accogliendo la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale dell'ente in provincia di Asti. L'aggiunta della locuzione, come è stato spiegato, oltre a connotare storicamente il Comune, contribuirà a valorizzarlo maggiormente anche dal punto di vista turistico, considerato l'inserimento del Monferrato nel patrimonio Unesco. Nel dibattito sono intervenuti Domenico Ravetti, Partito Democratico, e Gianluca Gavazza, Lega. Case popolari, contributo una tanto ma i piccoli comuni. La Commissione urbanistica e sede legislativa ha dato il via libera al testo della proposta di legge, affirma Alberto Preioni. Lega. I comuni piemontesi che hanno più del 5% di case popolari rispetto ai residenti avranno un contributo una tantum di 250.000 euro dalla regione per far fronte ai costi legati agli alloggi sociali. La seconda commissione, presieduta dal vicepresidente Alberto Avetta, riunitasi in sede legislativa dopo aver ottenuto il parere della Commissione bilancio sulla norma finanziaria, ha approvato a maggioranza la proposta di legge presentata dal capogruppo della Lega, Alberto Preioni. La norma prevede un contributo economico ai comuni piemontesi con alta incidenza di alloggi sociali rispetto alla popolazione che risiede negli stessi. Quelli interessati al provvedimento sono sei, tre nella provincia di Cuneo, Roaschia, Montezemolo e Celle di Macra, due in quella di Biella, Veglio e Rosazza e uno nel VCO Villa Dossola. Critico il Partito Democratico che con Diego Sarno si è soffermato più volte sulle modalità con cui i comuni potranno spendere questi soldi per capire se ci siano limitazioni o se la scelta sia lasciata al singolo comune. Il diritto di essere libere, convegno in aula sulla tratta degli esseri umani. Nei primi mesi del 2022 sono state accolte in Piemonte 150 donne. La tratta degli esseri umani. Una grave violazione dei diritti fondamentali che implica il trasferimento il trasporto illegale in forme coercitive di una persona straniera in un altro Stato al fine di sfruttarla nell'ambito della prostituzione, del lavoro, dell'accattonaggio o in altre attività illegali. A questo tema è stato dedicato il convegno Il diritto di essere libere, organizzato nell'aula consigliare, dal Comitato diritti umani e civili e dalla consulta regionale femminile. Spero vivamente che il Consiglio regionale nell'arco degli anni abbia l'intenzione di mantenere sempre molto alta come oggi l'attenzione istituzionale sul tema. A livello globale il fenomeno ha una forte connotazione di genere. Il 77,5% delle vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale sono donne e ragazze, mentre la percentuale di persone di genere femminile impiegate ai fini di sfruttamento lavorativo si assesta al 14%. Un'attenzione particolare c'è nel caso in cui queste donne siano minorenni, quindi siano delle giovani ragazze e quindi debbano affrontare questa difficilissima realtà e soprattutto debbano essere sostenute nel loro percorso di uscita da questa rete criminale. In Piemonte l'82% delle persone prese in carico dal sistema antitratta sono donne e provengono in maggioranza da Nigeria, 90% e Costa d'Avorio. Da gennaio ad aprile 2022, secondo i dati raccolti nel progetto Alfa, Accogliere le Fragilità, sono state seguite e assistite 150 donne. Un'enorme sinergia fra tutti gli enti antitratta della regione, un lavoro costante con le forze dell'ordine e la procura per il contrasto allo sfruttamento sessuale e anche lavorativo. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Grazie a tutti!